Oh vedete ragazzuoli, onestamente mi auguro che con queste notizie qui possiate capire bene o male perché nella giornata di ieri mi sono soffermato per ben due volte in mattinata e poi nel tardo pomeriggio parlando del difendere la Juventus, delle risposte della Juventus che puntualmente vengono meno e che bene o male sappiamo bene poi quelli che sono i risvolti ovvero in tutta tranquillità il poter continuare a buttare merda sulla Juventus, il continuare a costruire un determinato clima attorno alla Juventus e dopo ovviamente una narrazione che sappiamo benissimo tutti quanti che è iniziata ad andare in scena sin da subito dopo il fischio finale di Juventus-Bologna ebbè puntualmente ci mancherebbe altro che tramite l'ANSA l'AIA bene o male non vada a rilasciare delle dichiarazioni dove puntualmente sin da subito ci si sofferma su una cosa e non può essere nemmeno altrimenti partita di domenica alle 6 e mezza e subito bam nel primo pomeriggio del lunedì ecco qui la fresca notizia proveniente dalle fonti AIA tempo neanche 24 ore dalla fine della partita il rigore non concesso al Bologna per il fallo dello Juventino Eling su un doie è un errore evidente prima dell'arbitro e poi dei due uomini in salavar e questo ovviamente come anche giusto che sia per l'amor di dio ma bene o male tutti i temi li tocchiamo più tardi porterà ad un inevitabile stop dell'arbitro di bello che nel corso dei quasi 100 minuti di gioco si è dimostrato in più di una circostanza non all'altezza tra cui anche proprio la scelta di non andare a nemmeno a rivedere al VAR quell'episodio che ad onor del vero sembrava abbastanza palese in presa diretta con tanto di sospensione di Fornò e Nasca che erano i due arbitri al VAR e questo ovviamente non basta ci mancherebbe altro perché il popolo vorrebbe decisamente ben altro però è anche sempre giusto ricordare quelle che invece dopo la più grande porcata da quando esiste il VAR era stata la reazione dell'AIA del presidente della FIGC dove diverse volte così come l'AIA stesso aveva detto che di fatto non aveva sbagliato nessuno negli arbitri nel VAR chissà come mai e quindi di conseguenza ci mancherebbe altro nessuna sospensione per nessuno perché sia mai per l'amor di dio d'altronde è l'errore più grave da quando esiste il VAR che toglie due punti al 95esimo ad una squadra perché ci deve essere in un qualche modo qualcuno che deve riconoscere l'errore e magari pagare per quest'errore con qualche turno di stop sia mai e ma bene o male poi vuoi o non vuoi quando non ti fai sentire quando da questo punto di vista sei totalmente e puntualmente assente succede anche questo se la tua risposta di fronte ad ogni cosa bene o male è sempre rispondere con il silenzio accettando tutte le porcate che ti vengono fatte e tutta la merda che ti viene puntualmente gettata alla certa gli altri ci prendono anche gusto lo fanno e anche poco da ridire obiettivamente con appunto per l'ennesima volta anche laia stesso che si sofferma solamente su un episodio nello specifico l'episodio che tanto per cambiare fa suscitare clamore popolare e sappiamo benissimo qual è mentre invece su tanti altri episodi proprio all'interno della partita decisamente discutibili ovviamente in silenzio il nulla condito col niente perché non interessa nessuno perché magari qualora fosse stato fatto uno sbaglio sarebbe stato fatto contro la juventus quindi parliamoci chiaro tutto sommato va più che bene così e bene o male il messaggio anche che traspare in tutto questo nel momento in cui i propri vertici aia sottolineano solo ed esclusivamente un episodio quando magari ci sarebbe anche un rigore abbastanza netto all'ottavo minuto sullo 0 a 0 che anche quello avrebbe potuto radicalmente cambiare la partita perché se mi si dà tutto quanto per certo mi si parte da un 1 a 0 a partire dall'ottavo minuto per la squadra in favore cioè in casa favorita e più forte rispetto all'avversaria e però questo ovviamente chi se ne frega così come chi se ne frega un altro messaggio che inevitabilmente traspare perché abbiamo visto l'attenzione va soprattutto su un determinato episodio e se sbagli quell'episodio che in un qualche modo tende a favorire la juventus vieni stoppato vieni fermato per qualche turno e che quindi non andrei a percepire anche una bella somma di denaro perché gli arbitri per ogni partita che fanno prendono delle cifre che sono ben più di uno stipendio medio per una singola partita se invece magari non fischi uno o due calci di rigore alla juventus noi non lo andiamo nemmeno a menzionare quindi questo in un qualche modo può tornare utile anche per le 36 partite rimanenti perché sai che se magari determinati errori li fai a favore di una determinata squadra beh rischi di saltare qualche partita rischi che per un mesetto non lavori e quindi rischi di non andare a prendere quei 5 6 mila euro se sbagli a favore di un'altra si può chiudere un occhio e se magari viene fatta anche la più grande porcata da quando esiste il VAR o si tutela e si va a difendere il mondo arbitrale e dalla partita successiva comunque si è regolarmente in campo se non in campo magari si fa il quarto uomo o si va al VAR e che quindi bene o male la tua somma di denaro la vai tranquillamente a percepire e io onestamente di tutto questo sono davvero stupito fino a una certa e ribadisco ritengo comunque giusta la sospensione di forno di nasca e di di bello perché comunque si sono dimostrati non all'altezza il punto è che non si sono dimostrati non all'altezza non in una singola circostanza in più circostanze nell'arco della partita che nel momento in cui va a parlare l'aia sarebbe giusto comunque parlare di tutte le circostanze non della singola anche perché appunto in questo modo si manda un segnale se sbagli in un determinato modo non rischi nulla se sbagli in un altro beh rischi che per un pochino non andrai ad arbitrare però d'altronde se tu accetti sempre tutto quanto se stai sempre zitto e va bene tutto quanto così sia a livello di queste decisioni sia a livello di media o di risposte dopo che vedi tesserati di altre squadre fare il diavolo a quattro davanti ai microfoni puntualmente quando hanno la possibilità di farlo solo ed esclusivamente contro di te cosa devi fare ci devi stare e quindi chissà se magari no dopo l'ennesima presa per il culo dove in un caso per giorni si è detto che non ha sbagliato nessuno e in altro neanche 24 ore dopo già si sapeva tramite proprio l'aia che c'è stato un errore talmente tanto evidente che quegli arbitri per tot non arbitreranno inizierai in un qualche modo anche tu a farti sentire così ogni tanto è anche proprio per sbaglio perché poi ritocchi anche proprio gli stessi punti uno la difende uno ci mette la faccia uno alle volte si becca anche gli insulti però sarebbe bello vedere tutto questo anche da parte di chi ha effettivamente la possibilità i mezzi e ricoprire ruoli per poterlo fare perché altrimenti poi vale tutto devi assorbirti tutto e ci mancherebbe altro che poi gli altri non lo facciano e la direzione sembra proprio questa qui e sinceramente neanche da ieri o dall'altro ieri ci mancherebbe altro adesso tocca vedere se effettivamente anche nel momento in cui magari albanese va via della juventus cambia anche qualcosa da questo punto di vista al momento sembra veramente ben poco chissà in futuro detto questo ragazzuoli nulla buona giornata io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao 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 Ciao